Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla, oggi sono qui per fare un video diciamo di dettaglio sul discorso del expare durante le missioni di sterminio in stealth che è un sistema che come ho già detto va bene per expare alcune armi, va bene per expare il focus in particolare e i syndicate, però ci sono stati dei fix negli ultimi giorni un po' fastidiosi che hanno cambiato leggermente il modo in cui i nemici sponano o vengono allertati, per cui volevo fare semplicemente una missione assieme a voi in cui a mano a mano che succedono determinate cose diverse rispetto a qualche giorno fa, insomma ne parliamo un attimo assieme, quindi vengo con come al solito Loki più la War su cui ho la lente grande della mia scuola Ten of Hazarin e poi ho messo la lente anche sul Tonkor perché vi farò vedere delle cose, mi porto gli ispira solamente perché sono secondare silenziose e potrebbero servirmi per farvi vedere delle cose ulteriori, non è detto, ma insomma ci buttiamo in missione, vado sempre su Ludi, quindi sterminio di Ceres livello 30-35 e vediamo un attimino cosa succede. Siamo su Ludi come vi dicevo, saltiamo magari la intro che non ci interessa, voglio spiegarvi subito questo sistema, prendiamo per adesso la spada, andiamo a menare un nemico, io adesso procederò diciamo come faccio di solito, quindi nonostante questi fixi io vado sempre abbastanza spedito, però cerco di uccidere i nemici uno per volta perché adesso in sostanza se uccidiamo, guardate, un nemico vedete, nelle immediate vicinanze di un altro l'unità si allarmerà, vedete come si muove in modo diverso rispetto a queste altre unità, scusate ma devo allontanarmi per ricastare l'invisibilità. in sostanza appunto lo vediamo con la testa un po' più incassata nelle spalle, l'arma tenuta un po' più alta, pronta a sparare, vedete è ancora qui allertato, tant'è vero che se gli andiamo alle spalle non ci dà ok, ok avete visto ha cambiato l'animazione ora ora e ci ha partito, cioè è uscito insomma che potevamo backstabbarlo, insomma ucciderlo con questa finisher alle spalle stealth. Avete visto insomma cambia l'animazione quando vanno in questo stato di allerta temporanea e nel momento in cui ricambia l'animazione e tornano normali si sblocca di nuovo anche l'attacco alle spalle. Ora questi nemici sono molto vicini, vedete nuovamente ne uccido uno, l'altro va in questo stato di allerta che non è un'allerta diciamo rossa, allarme rosso, va a suonare l'allarme no perché c'è il terminale qui potrebbe dare l'allarme senza problemi invece non lo fa però se gli andiamo alle spalle non lo possiamo uccidere, backstabbare, all'arma vedete tenuta molto alta, io adesso tornerò visibile speriamo non mi noti, no non mi ha notato, vedete com'è diverso rispetto ai compagni, adesso è tornato, almeno che non è questo, no ok, è passata l'allerta, invece lui è sempre incazzato tutto così pronto insomma a reagire, bisogna aspettare un toto di secondi che non ho capito se sono fissi o variabili, dopodiché svanisce questa allerta che appunto mi piace definire arancione e il nemico ritorna nuovamente in stato di non allerta e quindi lo possiamo uccidere tranquillamente in stealth continuando a godere di questo bonus di esperienza, se invece lo uccideremo prima che svanisca, che finisca questo diciamo timer nascosto nell'unità allertata, la sua uccisione è comporterà non una kill stealth, una kill normale, quindi perderemo il nostro bonus di esperienza accumulato e dovremo ricominciare a tirarlo su da capo, adesso vi faccio vedere se capita nuovamente la situazione, io cercherò adesso di uccidere questo bombardo alle spalle, questo bombardo è già allertato ragazzi perché deve aver visto morire, allora ogni tanto si allarmano solamente quando gli muore un compagno vicino, altre volte invece, oddio, si allarmano anche a distanza se vedono morire un avversario, però questo sta succedendo, succede più raramente, fatto sta che succede comunque, ora, questo bombardo non posso one shotarlo senza l'attacco alle spalle, quindi non va bene per la prova, uccidiamo questo qui che non è appunto allarmato, uccidiamo quest'altro, vedete gli avversari presi insomma singolarmente non creano problemi, li continuiamo a uccidere veramente senza il minimo problema, sempre come prima, quindi la missione si fa in semplicità e in velocità finché i nemici sono isolati, vedete sto continuando a fare sempre questa cosa, non ho veramente il minimo problema, ancora 12 secondi in visibilità, quindi questi li posso uccidere, vai uno, quest'altro isolato, ok, vedete che era molto vicino al compagno ma non abbastanza da allarmarlo, per quello è strano che quel bombard si sia allertato così, però ogni tanto capita, segno probabilmente che questi fix non sono definitivi, non sono ancora ottimizzati e probabilmente lavoreranno ancora molto in questo senso, fatto sta che appunto, vi ripeto, un nemico in quello stato di allerta intermedia dovremmo aspettare ad ucciderlo se non vorremmo perdere il nostro bonus, ovviamente il bonus ha un timer per cui ci conviene andare a cercare altri nemici non allertati nella zona, ucciderli per rialzare il timer nella speranza che il nemico allertato passi il prima possibile da questo stato di allerta ad uno stato di non allerta, ok, qui abbiamo fatto piazza pulita, proseguiamo, io adesso ragazzi sto parlando, vi sto spiegando delle cose per cui è normale che ci metta un po' di più ma vi assicuro che se dovete fare la missione e andate spediti insomma ci si mette comunque poco tempo, è facile che magari si allunghino un pochino i tempi rispetto a quello che vi dicevo prima, di una media di 5 minuti può essere che si allunghi poi in questo momento abbiamo 118 nemici che non sono comunque pochissimi, quello che vi voglio far vedere dal motivo per cui ho portato il Tonkor è che io vi ho detto che i nemici vicini si allarmano se appunto uno nelle loro immediate vicinanze viene ucciso, bene col Tonkor cosa succede però? Col Tonkor succede che siccome i nemici all'interno di una certa area vengono tutti one shotati, tutti nello stesso istante, nessuno ha il tempo di allarmarsi per cui viene ucciso di fatto con un'uccisione stealth, è una cosa che io detesto profondamente perché trovo assurdo che uno possa giocare una missione stealth con un'arma pesante, un lanciagranate in questo caso silenziato grazie a una mod, lo trovo ridicolo e per quanto questo mi possa diciamo tirarmi la zappa sui piedi da solo, io vorrei che sulle armi pesanti venisse impedito l'utilizzo di mod che silenziano appunto l'arma perché non ha senso ora vi faccio vedere, questi nemici sono vicini, sparo col Tonkor qui, vedete ho il bonus in alto a destra, non ho perso niente perché li ho one shotati entrambi nello stesso identico istante, ora immaginatevi se io avessi avuto un arco e avessi sparato, scoccato una freccia a uno one shotandolo, bene il suo compagno di squadra si sarebbe allarmato io avrei dovuto aspettare un sacco di secondi finché appunto non fosse poi ritornato in uno stato di non allerta per poi ucciderlo senza perdere il bonus, però nel frattempo il timer del bonus sarebbe continuato a calare e quindi avrei dovuto cercare altri bersagli insomma fino a un certo punto ha senso, non ha senso però che un lanciagranate silenziato funzioni meglio di un'arma come l'arco che nasce per essere stelte quindi silenziosa quindi non è che a me queste modifiche non piacciono, non mi piace il fatto che non abbiano un senso logico cioè appunto vi ripeto che usando un'arma come l'arco sia più difficile che portandoci dietro il tonkor perché vi faccio vedere di nuovo ne uccisi due, questo non si è allertato perché l'arma è silenziata, questi due sono morti all'istante perché appunto gli ho sparato una granata silenziosa e vi ripeto se avessi avuto l'arco ne avrei ucciso uno, si sarebbe allarmato quello vicino, se l'avessi ucciso avrei perso il moltiplicatore di esperienza, insomma sarebbe stato più macchinoso. Ora vi ripeto che ha senso questo sistema e ci sta che io uccido uno con l'arco e quello accanto, insomma si allarmi e quindi io devo aspettare, devo trovare altri bersagli, ci può stare, sono anche disposto a sacrificare questo efficace sistema di esperienza del focus per andare a fare il focus in altro modo se mi migliorano effettivamente il gioco stelte e lo rendono più figo, più soddisfacente ci posso stare, al di là del fatto che me lo devono rendere remunerativo in qualche modo, cioè mi devi dare qualcosa in più oltre al bonus di esperienza, se me lo rendi più difficile mi devi, che ne so, raddoppiare i crediti che prendo a fine missione se non ho mai fatto scattare l'allarme, cose di questo tipo, insomma voglio dei bonus aggiuntivi se crescerà la difficoltà. L'altra cosa che non mi piace è che il sistema di stelte dovrebbe garantire un gameplay molto fluido, lo stelte è bello quando appunto si può giocare fluidamente, passi da una copertura a un'altra, uccidi un nemico alle spalle e ritorni in copertura, usi efficacemente armi che hanno senso che siano silenziate o silenziose con efficacia, mentre il sistema attuale mi sembra un po' per fare un esempio, dico una cosa da sensei, cioè se deve essere fluido si intende che appunto scorra come l'acqua quindi sia molto fluido, veloce, rapido, intuitivo, però adesso come adesso sembra più che scorra, che si muova come un carro con le ruote quadrate, cioè molto clac 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 veramente, non lo so, un po' forzato, non mi, cioè va ottimizzato sicuramente d'altra parte è tanto che lavorano sul sistema stelte, tant'è vero che all'epoca quando era invisibile e camminavi accanto al nemico questo non si allertava, ora invece vedete c'è il contatto fisico, se io tocco il nemico questo si accorge che c'è qualcosa lo uccido e infatti mi resetta il bonus e questo ha senso, è giusto e ci stava anche perché il gioco di Loki in particolare era molto molto semplice prima non che adesso sia nettamente più difficile ma bisogna stare più attenti a queste cose quindi i nemici hanno i sensi un po' più sviluppati già da qualche mese questi ultimi fix però appunto hanno inserito questo, vi ripeto, questa sorta di allerta arancione che ci rallenta un po' nell'expare e vi ripeto però il problema grosso, non so quante volte ho detto vi ripeto nel video, è una cosa che odio, lo dico spessissimo il punto è che io odio poterli uccidere in questo modo adesso ne ho ucciso solo uno, avrei potuto ucciderli tutti e tre con il Tonkor e appunto tutti e tre ho ucciso in stelte senza problemi, mi sembra veramente assurdo io voglio poterlo fare con l'arco, al di là del fatto che ho già messo la lente grande sul dread tempo fa l'ho dovuta mettere sul Tonkor perché se voglio expare in velocità alla fine mi tocca usare questo sistema ma spero veramente che eliminino questa possibilità, mi sprecherò la lente chi se ne frega lo userò per expare in altre modalità sul Tonkor ma non mi piace questa cosa, l'arco non va bene, il lancio granate sì, che cazzo vuol dire? penso di aver spiegato il mio punto di vista a dovere vi ho fatto vedere appunto come reagiscono in questo momento i nemici non è che il Tonkor ragazzi poi non gli allarmi mai ricordatevi solo che all'interno della sua portata tutti i nemici in genere vengono one shotati e nessun nemico si allarma vedete questo bello tranquillo con la pistola in posizione di riposo per cui lo uccido e il moltiplicatore come vedete è salito a 200% Lotus mi conferma che non sono stato sgamato vabbè e questi due comunque erano isolati avrei comunque potuto uccidere con l'arco senza problemi il problema vi ripeto, è ancora dato vi ripeto scusatemi, si pone quando i nemici sono gruppati in questo modo granata, pam, morti entrambi se avessi usato l'arco o avessi usato i coltellini da lancio ne avrei ucciso uno e l'altro si sarebbe allarmato con conseguenti perdite di tempo in sostanza è quello il problema, grosse perdite di tempo e quindi alla fine di esperienza al minuto chiamiamola così niente ora cercherò di completare la missione senza neanche stare a spiegarvi altro perché vi ho spiegato tutto la completo perché sto expando il focus effettivamente per cui adesso la porterò avanti cercando di non resettare il timer insomma scusatemi il timer, il bonus di esperienza e si poi chiaramente non devo far andare a zero il timer qualcuno si è allertato questo si è allertato, si testa incassata nelle spalle, fucile alzato quindi è allertato fateci caso perché poi ogni nemico ha diciamo le sue animazioni, vedete arma silenziosa l'ho ucciso ma questo si è allertato tant'è vero che non posso fargli lo stealth attack alle spalle, oh mio dio mi ha visto si è accorto di me, ha tirato una bastonata nell'aria però appunto non ha suonato l'allarme questo è importante da sapere questa allerta arancione ci fotte per il bonus di esperienza stealth ma non fa scattare l'allarme di qua la modifica tra l'altro degli spawn dei nemici di cui ho sentito parlare più che visto non so se ci consente ancora di correre fino all'estrazione per far spawnare lì tutti i nemici non penso funzioni più o se funziona non funziona più adeguatamente quindi ancora più nemici rispetto a prima sponeranno comunque in altre stanze quindi perderemo comunque tempo non ho in realtà fatto la prova potrei provare adesso a cercare di correre verso l'estrazione fatemi uccidere prima questo che mi dà un po' di esperienza extra e non avevo il bonus al massimo però i bombard importantissimo bombard dei vegan era importantissimo ucciderli con il bonus con un moltiplicatore di esperienza più alto possibile perché arrivano a dare più di 9000 fra i 9 e i 10.000 punti di esperienza con il 500% di bonus esperienza no non corro fino all'estrazione ragazzi è un metodo che non mi piaceva prima e mi piace tanto meno ora che hanno detto che appunto hanno sistemato un attimino lo spawn dei nemici quindi preferisco andare in maniera classica ovviamente sugli spira io non ho la lente grande per cui i nemici che uccido con gli spira l'esperienza maturata da queste armi insomma non verrà convertita in focus ma fa niente voglio vedere se mi ci trovo bene così in caso metterò poi una lente anche su questi ok i nemici non sono abbastanza vicini questi due no sono lontani perfetto vedete anche che bug brutti quando si fa il backstab che cioè riposizionano completamente le unità questi sono vicini mi tocca vedete usare sono un po' allontanati in realtà però il toncore si rivela insensatamente buono in missioni stealth non smetterò di dirlo in modo veramente insensato e ridicolo perché un lanciagranate è una missione stealth immaginatevi se in splintercell ci fosse stata questa possibilità di andare in giro con un lanciagranate stealth o in metal gear cioè un lanciagranate silenziato cioè veramente sarebbe stata una roba orribile e anche in warframe secondo me perde tanto perché un conto è chi usa questo metodo stealth solamente per expare un conto è chi invece lo stealth lo gioca perché gli piace bene a quelle persone lì questa cosa non può piacere non può agli amanti dello stealth non può piacere un lanciagranate silenzioso è impossibile e ammetto ragazzi che sia molto pratico questo sistema per expare queste cose sì senza dubbio però cioè preferisco perderci più tempo ad expare però veramente avere uno stealth come cazzo coi fiocchi come si deve vabbè questo non poteva non allertarsi cioè gli è comparso un Loki sotto il naso mamma mia l'ignoranza di quest'arma persino nello stealth questo è allertatissimo quindi noi cosa facciamo guadagniamo tempo sappiamo che abbiamo 20 secondi che solo quello è allertato questi qui no aspettiamo che scenda un po' il timer guadagniamo tempo non uccidiamo l'istante questo si è allertato perché sono un cretino io mi sono dimenticato di tenere ad occhio il timer dell'invisibilità uccidiamo questo guadagniamo altri 10 secondi questo non è più allertato abbassato il fucile verifichiamo andandogli alle spalle ok non è più allertato questa è sempre la riprova se esce fuori premie per fare stealth attack è la conferma definitiva che ci serve per decidere se possiamo ucciderlo o meno ricordiamoci che abbiamo lasciato una scorpione indietro che prima o poi dovremo tornare a prendere ok non penso di macinare tanta esperienza qui perché appunto molti li ho uccisi con gli spira molte volte ho resettato il bonus per spiegarvi alcune cose a volte l'ho resettato per cazzate mie ma questo è normale non è che dovete ucciderli tutti mantenendo sempre il bonus al massimo più riuscite a mantenerlo alto meglio è ecco si è allertato ma insomma vi capiterà comunque di frequente due o tre volte a missione che si resetti non è poi così un grosso problema insomma l'importante è magari rimandare l'uccisione di Bombard dei V-Gunner a quando riuscirete a riportare a 500% il bonus stealth io vorrei evitare di resettarmelo qui vediamo se trovo dei nemici ok ho pochi secondi ma ce la posso fare si si a voglia morto questi sono tutti vicini quindi Tonkor e vedete l'ignoranza vabbè adesso provo a dare un'occhiata indietro vedere se il nemico ok è tornato normale al fucile basso posizione rilassata quindi lo possiamo uccidere e ragazzi l'animazione del lancer si capisce subito quando è allertato meno anche di tante altre unità Grineer non so ad esempio per altre unità ad esempio per questo qui col bastone non mi ricordo mai come si chiama il Guardsman è un po' diverso si nota meno secondo me se è allarmato per quanto riguarda i corpus non sto neanche a dirvi perché secondo me i corpus vanno evitati per le missioni stealth perché mi pare che gli avversari robotici non si possano nemmeno uccidere con la finisher stealth alle spalle il backstab è complicato secondo me fare le missioni stealth contro i corpus già prima era più complicato che con i Grineer ci sono i moa che spuntano da quelle cassettine nelle pareti per cui rischiamo di essere visibili e non renderci conto che nella stanza appena ripulita invece è sponato un moa all'improvviso mi sta andando giù la voce però insomma io preferisco i Grineer oltre al fatto che Ludi ha la sterminio di livello più alto per cui non c'è motivo per andare in altri posti insomma con questo metodo non so se ho fatto esaurire sì stavo parlando mi sono distratto è andato a zero il timer vabbè sono uno che si distrae facilmente poi quando registro commentando vedete nemici vicini come al solito Tonkor quelli lì però si sono allertati mi hanno visto? no perché non sono andati a correre ad azionare l'allarme però state molto attenti perché quando sono in allerta arancione a volte basta veramente una frazione di secondo nel loro campo visivo e andranno subito ad azionare l'allarme vi spareranno cose di sto tipo questo ha la pistola su vi dicevo posizione riposata quindi perfetto infatti non è successo nulla ah questo mi ha visto quella frazione di secondo mentre ritiravo l'invisibilità e quindi vedete anch'io è veramente da pochissimi giorni che hanno fatto questa modifica quindi anch'io ci devo fare un po' l'abitudine e si ci rallenta un po' però fatta la dovuta pratica utilizzando il toncore comunque si velocizza si fa comunque abbastanza rapidamente vi ripeto per l'ultima volta lo giuro non amo questo discorso dell'arma pesante l'arma esplosiva come il toncore silenziata che funziona meglio dell'arco io ecco questa cosa non l'ho detta prima la dico adesso proprio in chiusura dovrebbero fare darci una finestra temporale cioè non so un paio di secondi entro i quali se uccidiamo entrambi i nemici vicini due tre quattro cinque nemici se li uccidiamo veramente in rapida successione e il bonus stealth rimanga vorrei questa cosa perché è un po' come un film non so immaginatevi un ninja che entra in una stanza e la ripulisce con le stellette da lancio non può uccidere tutti all'istante perché le stellette le deve lanciare una per volta però se c'è una frazione di secondo fra un colpo e l'altro se io pam frecciano il collo a uno pam frecciano il collo all'altro a distanza di non più di un secondo un secondo e mezzo l'una dall'altra due secondi al massimo allora vorrei poter non dico non allertare il nemico ma il nemico in allerta arancione ucciso entro due secondi da quando è stato allertato mi deve continuare a dare il bonus di esperienza o quantomeno non mi raddoppia il bonus di esperienza non mi passa da 100 a 200 va bene ma non mi annulli quello precedente perché sennò mi rendi l'esperienza di gioco non realistica frustrante e con questo ragazzi concludo direi che vi ho fatto delineato un quadro generale di queste modifiche il sistema funziona ancora un po' più macchinoso stateci attenti ma come vedete insomma tutto sommato ne vale la pena io ragazzi vi saluto vi invito come al solito a mettere un mi piace iscrivervi al canale e vi aspetto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti